Se siete già iscritti al nostro canale o state per iscrivervi, non dimenticate di premere il campanellino vicino al tasto di iscrizione. In questo modo attiverete le notifiche per non perdere nessuna delle novità del nostro canale. Negli ultimi anni ci sono stati molti cambiamenti nella vita quotidiana dovuti al progresso tecnologico. Abbiamo scelto dal web una piccola serie di vignette che con un sorriso ci fanno riflettere su quanto siamo cambiati. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.